Il centrale dall'arcoveggio è un miglio per categoria C, D, 7 dietro la macchina, 1 dama di cuori font, 2 kriz, 3 delorean oise, 4 maugli, 5 dafne jcp, 6 dolomite wf in seconda linea, 7 cluni dei greppi, pronostico che vede kriz, numero 2 favorito, Antonio Di Nardo in sediola, macchina che accelera con la velocità iniziale di maugli e dafne jcp, all'interno veloce anche dama di cuori font che rientra tutti e va a condurre, mentre all'esterno restano maugli e dafne jcp che insiste in terza ruota, mentre partito bene cluni dei greppi in scia, dama di cuori font che è in seconda posizione, una volta al comando dama di cuori se la gioca in testa, rimane all'esterno dafne jcp seguita da maugli, poi allargo anche dolomite wf con kriz che è per il momento in coda, se ne vanno intanto i primi 600 metri di gara dopo 29.4 di quarto iniziale, 645 e mezzo, con 16.1 in curva, stoppata secca di Antonio Greppi che davanti alle tribune si trascina sempre cluni dei greppi all'esterno, dafne jcp e dalla coda muove kriz, kriz in terza corsia, viene con estrema decisione sul rallentamento, 31.4 il quarto ma 15.3 davanti alle tribune, sospinge dafne su dama di cuori, 1.15.7 il chilometro, anche kriz aspetta prima di portare un nuovo attacco, mentre lungo la corda segue sempre cluni dei greppi, 400 alla conclusione con altro parziale svelto, 13.8, segue bene cluni dei greppi lungo la corda, mentre kriz al momento non riesce a progredire e viene in terza vuota invece dolomite wf, entra indirittura nettamente in vantaggio dama di cuori font, dama di cuori in vantaggio, inseguita all'interno da cluni dei greppi, all'esterno anche da dolomite wf che finiscono nell'ordine, la vittoria in percorso di testa di dama di cuori font, Antonio Greppi in sediolo, 1.14, raguale conclusivo 28.7, poi 29.3 a chiudere 58 per l'ultimo giro e vince davvero molto molto bene, dama di cuori font in training da Afrim Smidra per conto del signor Vincenzo Suarino, secondo posto che viene confermato da queste immagini per il numero 7 cluni dei greppi a sorpresa e terzo è dolomite wf.